Premetto soltanto un po' il programma della giornata. Allora, non dico nient'altro di più sul tema se non riprendere una piccola frase di Papa Francesco che trovate anche nel programma che avete avuto in cartellina. È una bellezza, quella dell'arte, che fa bene alla vita e crea comunione, perché unisce Dio, l'uomo e il creato in un'unica sinfonia, perché congiunge il passato, il presente e l'avvenire, perché attira nello stesso luogo e coinvolge nel medesimo sguardo genti diverse e popoli distanti. Ecco, ricordo a tutti voi che siete insegnanti, coordinatori, direttori, presidi, sapete bene che a livello di Unione Europea l'espressione, la consapevolezza nell'espressione artistica e culturale, viene considerata una competenza chiave. Se è una competenza chiave, vuol dire che è qualcosa di molto importante. E se crediamo in questo, diceva anche una famosa ballerina etuale della Scala di Milano, ho letto a questo proposito un suo articolo, dobbiamo credere che le arti, la bellezza delle arti, possano essere fortemente inclusive, inclusive per tutti i bambini e i ragazzi, gli adolescenti delle nostre scuole. E se sono inclusive vuol dire che permettono l'espressione, permettono di tirare fuori le potenzialità. Lei diceva, secondo me, se la scuola punta sulle arti, creerà un nuovo rinascimento. Ecco, questo come premessa. Programma della giornata. Allora, adesso avremo con noi tre importanti relatori che poi saranno presentati dalla dottoressa Vagna De Luca, che sono molto contenta che sia con noi oggi, perché credo che la capacità di una giornalista che gira il mondo e che conosce persone in tutto il mondo, e in questo caso affiancando anche in particolare quella che è la vita pastorale di Papa Francesco, sia un'ottima persona che sa riassumere e rilanciare i concetti che verranno espressi dai nostri tre relatori, che saranno da lei presentati. Io dico due parole su di lei, perché altrimenti il moderatore non lo presenta nessuno, me lo sono scritte, poi magari integrerà se riterrà opportuno. Vagna De Luca, presidente dell'Unione Cattolica Stampa Italiana, giornalista vaticanista a Rai News 24, dove conduce programmi di approfondimento e di informazione. È laureata in letteratura contemporanea all'Università La Sapienza di Roma, un master biennale in giornalismo radio-televisivo presso la Scuola di Perugia. In seguito ovviamente ha svolto stage e attività professionali in giornali tv, tra cui Repubblica Tg3. Dal 1995 è giornalista professionista e nello stesso anno entra in Rai. Quindi abbiamo una persona veramente molto competente e che ha seguito proprio tematiche collegate anche alla nostra realtà, della realtà pastorale e cattolica. Vi segnalo a questo proposito che fuori sono presenti due riviste dell'Unione Cattolica Stampa Italiana, DESC, sono queste qua, Raccontare la Comunità e Raccontare la Città, si possono prendere gratuitamente, vi consiglio di farlo perché sono degli ottimi approfondimenti proprio con un linguaggio anche molto, molto comprensibile. Ho letto qualche articolo e alcuni trattano anche di tematiche di cui parleremo oggi perché in uno si parla dell'importanza di creare luoghi di bellezza nelle città e nell'altro si parla anche, diciamo così, di tutto ciò che è social network e storytelling, altro tema che verrà trattato oggi. Ecco, dopo questa bellissima tavola rotonda, anzi, scusate, non dopo, in contemporanea, quest'anno abbiamo voluto lanciare un po' una sfida. Direi vero, l'idea è venuta dalla vostra assai creativa presidente, io l'ho appoggiata pienamente, poi ci direte voi se funziona. Grazie al suggerimento di Carlo Silvestrini di Cd Surio d'Arte di Padova, abbiamo invitato qui lo street artist che avete visto anche nel video, Alessio B, che farà una performance live, infatti vedete che c'è un po' di confusione qua, sulla sinistra, esatto, perché credendo nelle arti, dobbiamo anche credere nella capacità di essere creativi e di vedere un artista che, finché i relatori parleranno, proverà ad esprimere, diciamo così, la sua interpretazione delle parole che verranno dette nella tematica in un'opera di street art. Una piccola precisazione, allora, utilizzerà delle bombolette spray che sanno un po' di odore, non è un odore forte, è un odore assolutamente non fastidioso, però, se qualcuno è allergico, eventualmente alle polveri o così, lo invitiamo magari a mettersi dal lato opposto della sala, nel senso che quello magari, se qualcuno è un po' allergico, può causare un po' di fastidio. Ok? Abbiamo provato ad essere un po' multitasking come i nostri giovani, due cose in contemporanea, vediamo come va, come funziona, insomma, poi ce lo direte voi. Ecco, alla fine di questa presentazione inviterò due minuti qui a presentare il nostro artista Alessio B, Carlo Silvestrin, che ce l'ha portato qui oggi per provare a fare questa così espressione creativa all'interno della sala. Dopo la tavola rotonda, ci sarà anche un po' di spazio per un breve dibattito con voi, faremo una piccola pausa a caffè, in cui vi invitiamo sempre ad andare fuori, riviste al primo piano. Ricordo, ci sono tutti gli sponsor che hanno anche permesso la realizzazione di questo congresso e che vi invitiamo a visitare, a chiedere, a fare domande, poi alla fine della giornata si presenteranno anche. Al rientro della pausa, a mezzogiorno, abbiamo con noi, come vi diceva prima, Virginia, Monsignor Vincenzo Zani, che siamo contentissimi perché ci introdurrà proprio a questa nuova, diciamo così, forte, nuovo forte messaggio che il Papa vuole mandare a tutta la realtà cattolica sulla ricostruzione del patto educativo globale. Già ieri ne abbiamo sentito un po' parlare durante l'assemblea, oggi Monsignor Zani farà questo affondo, questo approfondimento molto importante. Infine, a conclusione della mattinata, il dottor Giuseppe Maffeo ci presenterà la nuova proposta lanciata da FIDE del pronto FIDE SOS Scuola, questo nuovo sportello a distanza molto importante per tutte le scuole che abbiano bisogno di un supporto, di una consulenza.